Un razzista e uomini come lui non possono stare nel calcio. Che c'hai? Ha usato parole razzista. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, con mai cinque minuti di recupero. Non è possibile. E lui ha iniziato a dire... Stai ricordando male di cazzate. Urlando, dicendo frocio, finocchio. Io sono orgoglioso di esserlo. Se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. E' certo che ha detto, a me non me ne frega un cazzo. Una persona di 60 anni che si comporta così è veramente una vergogna. Una vergogna. Perché si può anche litigare in panchina. Può non essere d'accordo. Lui è una vergogna. Ma batte l'affanculo bruttofroso! Schifoso! Bruttofroso! Schifoso!